No! No! Non funziona così? No! Parca di più! Spero 72 persone! Si! Si può durare la tecnica tecnica! E non schiacciare niente che è venuto! E il Sarawi! Il faraone! Rete! Finalmente ce l'ho cavato a farlo! Che scavato! Ah è scavato questo! Grandissimo! Però guardiamo! Guardate quello spettacolo! Guardatemi! Rientra! In mezzo! Grandissimo! Guardi! È il Sarawi! La tristezza! È una bellezza! Vediamo qualcosa! Scusate! Eccolo qua! Il Sarawi!